Dove arriva quest'Inter? Siamo in chiusura. Ce la facciamo? Bisogna continuare con il lavoro che stiamo facendo da un po' di mesi, con questa voglia, questa determinazione è dura, è difficile, quasi una missione impossibile, però bisogna provare a crederci fino all'ultimo e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine, anche perché dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi, bisogna cercare di fare il massimo che si può fare e poi a fine anno vedremo cosa saremo riusciti ad ottenere. Si è in un Inter che è un progetto con tanta voglia di tornare a essere il numero uno, quindi questo penso che sia motivo di soddisfazione, di orgoglio, che fa guardare al futuro con serenità, con voglia. Sì, sì, diciamo che le premesse sono buone, adesso la strada che abbiamo intrapreso in questi mesi è buona e bisogna continuare, continuare tutti in questo senso, con questa voglia, questa determinazione per ritornare in alto e ogni giorno cercare di metterci sempre dentro qualcosina in più. E ripartire già con la Sampdoria. E ripartire già con la Sampdoria perché, ripeto, se vogliamo creare possibile quello che ad oggi sembra impossibile bisogna cercare di provare a vincere tutte da qui alla fine e poi sappiamo che è difficile e poi tireremo le somme. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Inter Channel e poi scegli.